Grazie a tutti Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa settimana sono nel nostro studio i consiglieri Gianluca Cirignoni, Umbria Popolare Nuovo Centrodestra ed il consigliere Orfeo Goracci, gruppo consigliare comunista Umbro. Apriamo con l'attualità, consigliere Goracci, il Jobs Act è un copia e incolla che ha fatto Renzi dai file della Confindustria. Questa è la sua dichiarazione, ha parlato di un plagio consensuale e i lavoratori ne sarebbero vittima. Ci spieghi il suo punto di vista su questo importante documento di governo? Molto modestamente che il programma renziano fosse padronale Confindustriale non ci voleva e non ci vuole da essere scienziati della politica di livello mondiale, ma basta vedere le cose come sono. Il fatto che sia un file copiato da Confindustria, l'ha scritto un autorevole quotidiano che fa ancora un po' di giornalismo d'inchiesta, è lì. Ma il dato vero è che Renzi, ai noi, riesce a fare cose che non sono riuscite ai governi, e lo dico da uomo di sinistra convinto, del peggior centrodestra, di Berlusconi, perché comunque ad un certo punto si fermavano, tenuto conto delle esigenze del Paese, si risponde con le ricette che hanno prodotto questi risultati. E mi permetto di aggiungere che è riuscito in una cosa positiva, quella cioè di far risvegliare un po' del mondo sindacale, perché quando le dame di Renzi dicono dove eravate con la Fornero e con gli altri, hanno ragione. Io conto poco, ho appartenuto a forze politiche che non avevano certo la maggioranza nel Paese, ma sono e siamo sempre stati contro le forme della precarizzazione del taglio dei diritti, perché questo è un ritorno indietro. E non va certo dimenticato che quando parliamo per esempio dell'articolo 18, che riguarda pochissime persone, appunto è un simbolo, la Confindustria voleva che fosse tolto, Renzi esegue. Ma io non mi stupisco e so che anche nel corpo elettorale del PD molti non la pensano in questo modo, ma il mutamento di pelle, il cambio radicale, si avverte da ogni cosa. Si deridono i rappresentanti dei lavoratori con tutte le colpe e le responsabilità che hanno, a partire dall'essere concertatori in maniera esagerata, ma mentre si prendono in giro loro si definiscono eroi, e gli eroi piccolissimi artigiani, piccoli imprenditori e piccoli commercianti lo sono. Di fatti sono diventati dei sottoproletari che non riescono ad arrivare a fine mese nelle mani dello strozzinaggio autorizzato delle banche e via proseguendo. Ma dicevo, Renzi è quello che ha fatto questa mutazione genetica, per cui per i lavoratori, vedi quelli della Terni, ci sono le manganellate della polizia di Scelbiana, memoria degli anni 50 e 60. Le cene si fanno con quelli che possono permettersi mille euro per partecipare. Mille euro sono un sogno per tanta gente che in cassa integrazione ne prende 6 o 700 o molti che il lavoro l'hanno perso. Credo che non è demagogia, ma è una lettura della società che spero prima si riesce a cambiare e meno danni si portano a compimento. Chiaro, il quadro che ha delineato il consigliere Goracci, il consigliere Cirignoni, abbiamo aperto con il lavoro praticamente l'attualità. Io voglio dire innanzitutto per puntualizzare che io faccio parte in regione del gruppo Umbria Popolare NCD, ma rappresento Umbria Popolare. Questo il gruppo è nato esclusivamente a supporto della candidatura per le prossime regionali di Claudio Ricci, del sindaco di Assisi. Per il resto è una questione esclusivamente Umbria. Non condivido ovviamente tra l'altro quello che l'NCD sta facendo invece al governo nazionale sotto tanti aspetti, compreso anche il Jobs Act. Io credo che ridurre i diritti dei lavoratori non porterà niente di più che un imbarbarimento e basta della nostra società, non migliorerà di certo la competitività delle nostre aziende. Le nostre aziende per essere competitive hanno bisogno di due cose, ridurre le tasse in maniera importante e avere migliori infrastrutture, sostegno, miglior accesso al credito e uscire dallo strozzinaggio delle banche, così come anche le nostre famiglie. Credo che abbattere i diritti dei nostri lavoratori per migliorare la competitività delle aziende sia sbagliato, sia un inseguire paesi del terzo mondo che producono sotto costo e che ci fanno concorrenza e magari strizzare l'occhiolino ad una gestione dell'immigrazione nel nostro paese criminale, direi, per la quale si vorrebbe forse sostituire i nostri lavoratori con quelli che vengono da paesi del terzo mondo e che magari sono più predisposti ad accettare condizioni capestro rispetto alla nostra gente che invece è abituata, dopo anni e anni di battaglia, ad essere all'interno di un mercato comunque che ha una certa regolamentazione e garantisce dei diritti per tutti i lavoratori. Piccola parentesi politica, Umbria Popolare sostiene la candidatura di Ricci, sindaco di Assisi, a presidente della prossima tornata elettorale, candidato per la regione Umbria, lo volevo dire caso mai che qualcuno non avesse ancora dimestichessa con la sigla, ma al volo la situazione relativa ai candidati che saranno all'opposizione per le regionali che novità fa registrare? Solo Claudio Ricci o primarie? La situazione è in evoluzione, io auspico che tutto il centro-destra si ritrovi intorno alla figura di Claudio Ricci perché è l'unica figura credibile e spendibile che ha il centro-destra dopo 40 anni per poter dare un cambiamento, per cambiare l'Umbria, anche giustamente per garantire un'alternanza all'interno di una regione che altrimenti ha visto solo le forze della sinistra avvicendarsene al governo. Io credo che ci sia bisogno che il centro-destra si riuniesca attorno a questa figura, che si facciano le primarie, che non si facciano, credo che alla fine quello che conta è che ci sia un candidato credibile, l'unico candidato credibile che c'è e che è partito per tempo è il sindaco di Assisi Claudio Ricci. Per par condicio vorrei sentire questo appuntamento elettorale, forse dall'estrema sinistra nel caso suo, consigliere, non proprio quella della maggioranza. Io sono più sfortunato del collega in questo senso, non ho un candidato ideale, nel senso che credo che alla fine il PD anche per la legge elettorale che farà risulterà vincente, che se non accettano il doppio turno e non mettono soglie, è altamente probabile che al primo turno la coalizione che sosterrà la Presidente Marini, che è stata una figura tra luce e ombre, non vedo solo le ombre, ha gestito una fase difficile. Quindi nella maggioranza se c'è un soggetto che può essere messo un po' più in alto sicuramente è la Presidente, anche se mi sembra scarsamente poco sostenibile l'idea come è avvenuto nell'assemblea del PD che salva la regina tutto il resto che sia giunta, che siano consiglieri, a casa perché non meritano. L'equilibrio mi sembra non ci sia. Io sosterrei volentieri se ci fosse una candidatura di una figura che, diciamo, la semplifico, un Landini Umbro che scendesse in campo in politica, che è in grado di raggruppare sui temi dei diritti del lavoro e sulle priorità per la gente che soffre di più, quella sinistra variegata, sparsa, delusa anche dai grillini in questa fase di Pietro che è scomparso, di Fondazione, PDC, SEL che non ci sono più. Temo che i giochini di potere porteranno ad una frantumazione e non ad una aggregazione e chi ne beneficerà sarà il soggetto maggiore che è il Partito Democratico in questa regione, così come è avvenuto in Emilia dove comunque hanno vinto anche se hanno perso con i cittadini, perché quando non vota il 70% della gente in una realtà, quasi il 70%, in una realtà che era un simbolo, un modello in Italia, in Europa e nel mondo dovrebbe far riflettere in maniera forte. Tra quella gente che non ci è andata credo che diversi siano, mi si passi il termine poco elegante in occasioni come queste, ma scoionati di sinistra. Senta, cambio argomento ma resto su di lei e so che anche il consigliere Cirignoni avrà da dire su questo. Le altre critiche al governo che lei ha rivolto in maniera abbastanza forte, cercando di far alzare un grido dall'Umbria e quindi anche dall'Assemblea regionale, è l'errore che avrebbe fatto il governo a spingere per lei 45 in autostrada. Il punto è che c'è un parere favorevole del Cipe, quindi sostanzialmente c'è il via libera. Lei dice che è inaccettabile anche il silenzio della regione che non tiene conto, afferma, degli interessi della collettività e in effetti è un tema su cui gli Umbri discutono parecchio e sono anche un po' preoccupati. Sì, io sono convinto di questo perché è la politica tipicamente di destra e berlusconiana la risposta delle grandi opere senza guardare quali sono i risultati e i frutti. Grande opere che poi probabilmente servono, come in questo caso, a qualche grande imprenditore, amico di qualche gruppo politico e chi paga? I cittadini. Perché noi Umbri, che siamo già messi malino dal punto di vista della viabilità, per venire nel capoluogo da qualsiasi comune proveniamo, dovremmo pagare il pedaggio per fare 50, 10, 13 o 12 chilometri. A che cosa serve una infrastruttura di questo genere quando non si spende una lira per la prevenzione del dissesto, per intervenire onde si evitino catastrofi? Credo che la gente piano piano comunque sta crescendo, se ne sta accorgendo la raccolta delle firme che vari soggetti hanno fatto. Certo, se sto ai dati dell'Umbria, siamo in 5 ad aver votato contro questa proposta e guarda caso, guarda caso, fanno finta di litigare su molte cose, ma centrodestra e centrosinistra, quando si parla di grande opere, di incenerimento, di devastazione del territorio, hanno una unità di intenti che spaventa. Io non sono ancora convinto che la facciano, perché la pressione contro sarà forte, perché non si vede il riscontro e l'utilità, e mi permetto banalmente di dire, proveniendo da un territorio che sicuramente è il più isolato dal punto di vista delle infrastrutture viarie insieme alla ballerina, ma è più grande come popolazione, dall'Eugubino Gualdese, non si riescono a trovare quattro soldi per completare una strada, non autostrada, non a quattro corsie, nove metri di larghezza, quindi a doppio senso di circolazione, e ci andiamo a mettere in un imbuto di una colata di cemento e di asfalto che tra l'altro darebbe la negatività maggiore all'idea, lo stereotipo del cuore verde dell'Umbria. Se poi ci mettiamo anche l'incenerimento dei rifiuti, magari nei cementifici che in Umbria ci siamo, quindi la spina dorsale, cemento e asfalto, il cuore verde in città che si chiamano Gubbio e Spoleto, mondezzaio del centro Italia, se questa è la scelta della politica, certamente non troverà il mio, ma conta poco, credo, il favore di tante migliaia, decine di migliaia di Umbri. Grazie consigliere, mi ha dato due risposte in una sola domanda, abbiamo toccato anche la materia ambientale. Dicevo che il consigliere Cirignoni sicuramente ha la sua precisa idea, anche perché oltre che come attività politica in senso stretto, lei ha ricorso più volte anche alla magistratura ordinaria, per dire che le strade non vanno bene, che ci sono dei pericoli, ricordiamo il buco di Golfio e del Verghereto. Tra l'altro la strada, la E45, anche pochi giorni fa, è rimasta chiusa sempre sullo stesso posto, dove si è concluso da poco un appalto da oltre 20 milioni di euro, quindi diciamo che su questa strada vengono spesi soldi, purtroppo vengono spesi male, è stata ulteriormente chiusa la Quattro Corsie, proprio perché c'era da riparare un ulteriore cratere che si era creato sulla strada, che aveva fatto andare fuori strada un grosso auto articolato, quindi questo è il punto. Credo che la trasformazione in autostrada della E45 sia un'opera inutile per i cittadini, per le tasche dei privati che vi sono coinvolti, probabilmente no, un'opera faraonica con un impatto ambientale molto grosso, ma che graverà probabilmente, se saranno confermati le ipotesi di pedaggiamento, che sicuramente riguarderanno purtroppo tutti gli ombri, graverà anche fortemente sulla competitività delle nostre imprese e anche sulle nostre famiglie, perché insomma si parla di pedaggiamenti veramente esosi. Il punto è, noi abbiamo già una Quattro Corsie che serve il territorio, purtroppo non è mantenuta nelle condizioni in cui dovrebbe essere, nonostante i tanti soldi che vi vengono spesi annualmente, e questo è testimoniato dai tanti cantieri che vediamo, a cui cantieri corrispondono altrettanti soldi pubblici che vengono pagati, ecco questo è il problema, quindi è per questo che io molto spesso sono ricorso alla magistratura con quattro esposti, per chiedere di verificare come questi soldi vengono spesi in questi cantieri, perché purtroppo assistiamo a cantieri perenni, insomma e a quello che poi la cronaca di tutti i giorni riporta, in merito a incidenti e in merito alle condizioni di questa superstrada, che lo ricordo è la spina dorsale per l'Umbria, la Orte Ravenna è per l'Umbria la spina dorsale della viabilità, che fa anche una funzione di raccordo tra le strade interne e che se venisse trasformata in autostrada porterebbe anche l'ulteriore problema di un appesantimento del traffico su una viabilità secondaria che non è adeguata. Io credo che l'E45 debba essere la superstrada pubblica e gratuita al servizio degli ombri di tutti i cittadini e che debba essere mantenuta in condizioni di sicurezza. Ad esempio sulla Firenze-Pisa-Livorno, una superstrada più o meno simile alla E45 che collega Firenze con Livorno, lì fu scelto di seguire un'altra strada, non quella della trasformazione in autostrada, cedendola ai privati, ma di invece cederla da ANAS ad un consorzio fatto dalle province interessate, Firenze-Pisa-Livorno, le quali hanno creato questa società e avendone una responsabilità diretta gestiscono questa strada in maniera migliore ed infatti si vede. È migliorato tutto quanto, è rimasta una strada gratuita per i cittadini, ovviamente ci sono dei limiti che devono essere rispettati, ma questo credo che sia una questione normale. Se posso vorrei spendere anche due parole per l'E78, perché anche questo è un progetto che sono ormai 40 anni, che viene messo in ballo e se ne parla spesso su Masmedia, specialmente a ridosso delle campagne elettorali, di fatto il tratto ombro non è stato mai completato, rimangono 10 km di opera incompiuta tra la Galleria della Guenza, tra le Marche e l'Umbria, Città di Castello e Urbania e Sant'Angelo in Vado, che invece a mio avviso e avviso anche di oltre 3.000 cittadini che hanno firmato una petizione, potrebbero essere messi a servizio delle nostre valli, delle valli dell'Alta Umbria e quindi comunque anche di tutta l'Umbria, con una spesa molto minore rispetto all'evanescenza di un nuovo progetto di E78 che peraltro non prevederebbe neanche il collegamento dell'interporto di Città di Castello per il quale la regione ha speso oltre 20 milioni di euro. Quindi a fronte di queste opere faraoniche che vengono messe sul tavolo e che dureranno anni e anni, chiediamo invece di fare quello che si può fare, mantenere per bene l'E45 lasciando la pubblica e gratuita e fare un piccolo progetto di collegamento con la viabilità di Fondovalle di questi 10 km comprendendo la Galleria della Guenza tra Umbria e Marche. Non ci sono dunque voci univoche sull'argomento e questo emerge anche dalla nostra trasmissione. Lascerei i trasporti per andare ad altri argomenti. Comincio da lei, consigliere Goracci, con un argomento per il quale solo lei si è battuto mi sembra abbastanza duramente. Perché vogliono stravolgere le logge dei tiratori a Gubbio, un monumento che lei definisce la parte fondamentale dell'identità del cuore della città. Qual è il problema? Che cosa si vuole fare? Qual è il progetto per questo monumento? Il progetto è stato presentato dalla Fondazione Cassa di Risparmio presieduta dal Cavalier Carlo Coleiacovo che certamente è una figura che a Gubbio in Umbria e non solo ha un suo peso. Che cosa ci vogliono fare? È definito in maniera un po' diciamo così semplicistica perché si parla di mostre, di concerti. Il dato vero è che quel progetto che prevede i vetri, il Comitato ha usato il termine vetrificazione, stravolge, questo è il verbo, e non lo dico io, eppure Gubbio la conosco abbastanza, ma mi riferisco a personaggi del mondo della cultura del mondo universitario, da Setti Sabertini, da figure come Fofi e altre, un eugubino architetto come Teodolo Manganelli, che sono e siamo tutti per l'utilizzazione delle logge, per poterci fare molte cose, e in questo caso invito a leggere sulla rete quanto propone un membro del Comitato che è l'architetto Nello Teodori, senza chiudere quello spazio, non solo si creano volumi, ma io tra pochi mesi tornerò a fare il maestrino e uno dei concetti che si insegna in prima elementare, anzi lo fanno già le colleghe della scuola della infanzia, una volta si chiamava la materna, è il concetto di aperto e chiuso. Allora, le logge sono sempre state da quattro secoli aperte, non capisco, perché oggi le si debbano chiudere, facciamoci tutte le cose possibili sopra, mostre, iniziative varie, passeggiate, fotografie. Io sono stato quello che ha avuto la fortuna di collaborare con Gai Aulenti e donò il progetto per la ristrutturazione di Piazza San Giovanni. Gai Aulenti prevedeva un accesso a Piazza San Giovanni direttamente dalle logge, per la verità in posizione verticale, dritta, ma va bene anche quella che c'è in questo progetto, di poter accedere dalla Piazza 40 Martiri. Ma non si mette, si faccia tutto quello che propongono, ma non i vetri, perché sono un cambio netto di quella, di quell'edificio che appunto è la cerniera tra la parte bassa della città e la parte alta con l'elemento della medievalità e del rinascimento che è tra i più significativi e importanti non solo di questa regione, ma credo d'Italia. Consigliere Cirignoni, perché vuole abrogare l'articolo 6 della legge 20 sulla previdenza dei consiglieri regionali? Che cosa c'ha che non va questa sua proposta di legge specifica? Sì, diciamo che è una proposta di legge che rientra poi nell'ambito di altri interventi che io ho fatto per quanto riguarda l'amministrazione regionale. Quest'articolo che fu approvato dalla passata legislatura, quindi quando ancora c'era la governatrice Lorenzetti permise diciamo ai consiglieri che c'erano all'epoca di andare a prendere vitalizia a 60 anni mentre invece io ritengo che si debba farlo ma a 65 perlomeno. Quindi questo è il punto per cui su questo credo che vedremo quello che ne dirà il consiglio e le altre forze politiche chi vivrà insomma vedrà su questa situazione credo che si potrebbero conseguire ingenti risparmi per le casse del consiglio regionale dell'assemblea legislativa così come credo che sarebbe molto utile incominciare e già si sta facendo ma mi sembra con scarsi risultati a parlare della riduzione dei premi dei dirigenti regionali questo non solo in Umbre ma in tutte le regioni d'Italia ultimo è stato il governatore della Toscana Rossi il quale diciamo di fronte a dei premi esorbitanti dei premi di risultato e di posizione esorbitanti alla fine ha dovuto prendere una posizione chiara dicendo che dovevano essere ridimensionati se non addirittura annullati come penso io e di questo il governo Renzi avrebbe dovuto occuparsi non mi pare che la presidente della giunta regionale Ombra Marini si sia accordata su questo di fatto io ho visto che già in questi giorni è stata predisposta una determina dalla giunta regionale che assegna oltre 3 milioni e 300 mila euro ai dirigenti della giunta regionale quindi sono penso mi sembra una settantina di dirigenti della giunta regionale per retribuirgli la rendita di prestazione di posizione e di risultato cioè sono dei premi in più rispetto a quello che è diciamo lo stipendio tabellare dovuto e che vengono diciamo retribuiti in base a dei risultati che dovrebbero essere raggiunti e sui quali io ho molti dubbi anche su come poi vengono stabiliti questi risultati insomma è lente gli stessi dirigenti c'è un organismo interno però è una è una situazione per la quale vi sono dei soldi ingenti quindi negli ultimi dieci anni quasi 30 milioni di euro che vengono escono dalle casse della regione per andare a retribuire in forma aggiuntiva i dirigenti regionali questo credo che non è giusto crea una discriminazione tra i lavoratori un danno per gli ombri su questo bisognerà intervenire la giunta io spero che vorrà intervenire per ridurre drasticamente questi premi e nella speranza che poi il governo nazionale ci metta le mani per far sì che insomma questa questione venga fortemente ridimensionata perché non credo insomma che si possa continuare a tollerare grazie siamo nell'ultimissima fetta di trasmissione rimangono proprio un paio di minuti torno all'attualità con la quale abbiamo iniziato una risposta da entrambi su una proposta che viene dalla Lombardia esattamente dal presidente del consiglio si chiama Cattaneo dice che le regioni si devono accorpare non la Lombardia però per esempio per il centro lui vede una proposta che riunisca Umbria Marche e Lazio ma da Umbri Cirignoni ci conviene prendere in esame una cosa di questo genere? Io intanto credo che se una proposta deve essere fatta sarebbe quella di rivedere il funzionamento delle regioni a statuto speciale perché insomma lì credo che lo Stato manda molti soldi noi da Umbri non credo che ci convenga una proposta del genere per il semplice motivo che andremmo a fare la succursale di Roma cioè accorparsi con il Lazio che da solo ha Roma che ha oltre 4 milioni di abitanti una regione con 5-6 milioni di abitanti e noi che fine faremmo? Diventeremmo diciamo una provincia dell'impero tra l'altro di un impero basato con le fondamenta basate sui debiti perché Roma capitale è una lo sappiamo tutti ha un debito pubblico consolidato quindi debiti del comune per oltre 15-16 miliardi di euro e quindi ci rendiamo conto un po' quello che succede io credo che in Umbria noi Umbri bisogna puntare a diciamo migliorare il nostro sistema amministrativo a sgravarlo di costi inutili di inutili privilegi però anche a tenerci stretti la nostra diciamo la nostra libertà la nostra possibilità di gestirci la sanità sul nostro territorio andare a finire in un contenitore più grande comporta oltre che rischi corretto anche quello di non essere più padroni di organizzare la sanità sul nostro territorio per la quale tra luce e ombre però abbiamo più luci che ombre e quindi è una sanità che alla fine rispetto a tante altre a parte le liste d'attesa ma come economicamente la gestione è migliore quindi io credo che noi bisogna tenersi stretti grazie consigliere Cilignoni consigliere Goracci le macro regioni come le vede? ma l'argomento è molto tosto e delicato insieme io ero in regione nel 95 quando allora presidente Bracalente si parlava di Centronia con Lazio Marche e Toscana poi non se ne è fatto niente sulla ipotesi specifica convengo abbastanza con le cose dette poc'anzi dalla collega con Lazio io sarei perché rimangano le autonomie si eliminino gli sprechi i costi inutili ma le regioni quando sono nate anche costituzionalmente avevano questa idea di una presenza sul territorio diciamo più autonomo senza essere leghista o federalista in uno stato che ha il riferimento centrale però le specificità locali ci sono quindi nello specifico assolutamente no con il Lazio per la ragione che diceva il collega Cirignoni se mai ma io la metto proprio come ipotesi remota se c'è una regione con la quale un minimo di equilibrio pur essendo noi più deboli però può esserci per esempio la regione Marche con la fascia appenninica che è elemento di Cerniera una storia culturale legata insieme penso ai Montefeltro da dove io provengo ma non solo quello quindi ci possono essere elementi di vicinanza ma quello che deve essere sempre riferimento e il collega lo citava per la sanità ma deve esserlo per i trasporti per i servizi per le opportunità che si danno è sapere che cosa la regione Umbria come adesso o una regione accorpata come potrà essere fra 3, 5, 7 anni che cosa fanno per i loro territori e soprattutto per i loro cittadini questo della sanità per esempio è un elemento straordinariamente importante e che denota che non anche se si è piccoli con tutte le contraddizioni che possono esserci anche in Umbria però anche se si è piccoli si può gestire in maniera qualificata importante e di riferimento nazionale come sta avvenendo ringrazio il consigliere Orfeo Goracci il consigliere Gianluca Cirignoni e naturalmente tutti voi che ci avete seguito da casa o sul web appuntamento fra una settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti